La mia vita su questo dà delle indicazioni molto puntuali, molto precise e quindi il mercato andrà sicuramente in una direzione di maggiore trasparenza, di maggiore efficienza e quindi di maggiore soddisfazione, io credo, della clientela al dettaglio. Oggi l'albo è stato ridisegnato avendo tre sezioni, quella dei consulenti finanziari abilitati, l'offerta fuori sede, gli ex promotori finanziari e altri due soggetti che a dire il vero ancora non sono né censiti né vigilati che sono gli autonomi e le società di consulenza. La capacità di interpretare le aspettative, le paure e le ansie della clientela fanno parte del bagaglio oramai assolutamente necessario per svolgere questa attività. Un pizzico di psicologia è necessario. Assolutamente sì, ma forse più di un pizzico, tant'è che si è sviluppata una branca importantissima del settore che è quello della finanza comportamentale.